E ora le immagini inedite e curiose di un evento eccezionale, immortalato dalla videocamera di un telefonino. Una famiglia di orsi marsicani, composta da mamma, papà e tre cuccioli, è comparsa all'improvviso su una strada della comune di Arcinazzo, vicino a Roma. Sorpresi gli automobilisti, tutti fermi ovviamente ad ammirare la scena. Probabilmente gli orsi marsicani si erano avvicinati alle abitazioni in cerca di cibo.